Sempre più numerosi gli spazi dedicati al volontariato a Capodorlando, che con l'iniziativa Tutti Insieme, giornata del volontariato, promossa dal CESV, Centro Servizi per il Volontariato di Messina, con la collaborazione delle associazioni locali e il patrocinio del Comune, ha consacrato l'intera giornata dello scorso sabato al valore etico e alla rilevanza sociale di tutte le attività che questo mondo parallelo, ma non sconnesso, dalle istituzioni porta avanti con dedizione. La giornata si è aperta partendo dai più piccoli che sulla spiaggia del Lido No Limits, hanno condiviso momenti di incontro, solidarietà e gioco con un occhio all'inclusione e all'accoglienza e dall'altro all'educazione alimentare. Il CESV, che appunto raduna tutte le associazioni di volontariato, ci ha coinvolti in questa bellissima giornata. Oggi la mattina è particolarmente dedicata ai bambini ed è stato bellissimo vedere i bambini ospiti della nostra struttura, quindi con qualche disabilità motoria o di altro genere, giocare in maniera veramente inclusiva e coinvolgente con tutti gli altri bambini, anzi addirittura aiutando gli altri bambini. È stato veramente un bel momento. Noi siamo ovviamente come associazione No Limits al di là del muro, la nostra missione è quella di promuovere la diversità in tutti i suoi vari aspetti, per cui ci stiamo aprendo sempre di più a questo tipo di attività che vedono appunto la vera inclusione, la vera inclusività bambini o comunque persone con disabilità insieme a persone cosiddette, fra virgolette, normodotate. Nel pomeriggio il gruppo di partecipanti è stato accolto a Villa Pacis per un momento di convivio con gli ospiti della struttura, mentre per la serata sono stati intersecati spazi dedicati alla prevenzione e alla cultura con gli eventi in cartellone per l'estate orlandina. I nostri obiettivi sono giornalieri, speriamo, puntiamo a avere sempre più ospiti e a portare sempre più disabili alla spiaggia No Limits perché è giusto che tutti insieme escono e stanno tutti insieme appunto l'inclusione dei disabili insieme ai nomodotati.